Prima tappa Fabio Massa Buongiorno Posso far vedere gli occhi? La domenica mattina posto, sabato sera Chi ore sono? Sono le 8.23 Ed è già un'ora che siamo in giro E' già un'ora che siamo in giro Cioè tappa Fabio Massa Notare la macchina monofolunica In cui andremo a Tazzuolo Nooo Che scaroletto? Si è quella di suo fratello Che? Il numero è un po' più Un po' più alto Come al solito scatterà in un momento senza senso Il nostro pronostico della giornata Beh direi di evitarlo adesso il pronostico della giornata No no, invece proprio adesso che lo sento Attenzione, ha sbagliato 7 gol Aspetta che faccio il pendolino Sassuolo goal Come goal? Ah segnano pure Segnano pure E noi ne facciamo 3 3 a 1 per noi Ecco Io mi do una sgrattatina Ecco cosa volevi 2 a 0 No, non voglio niente io Non voglio niente Allora stai qui Stai qui sotto il coso giallo No, girati sotto il coso giallo della Cop E ti butti dentro L'umana Dico che la difesa rimane imbattibile Imbattibile Imbattuta Imbattibile Ma il ricordo più bello di 18 anni di presidenza Moratti A parte il triplete A parte il triplete Compa voi fa 98 Parco dei principi Qualche acquisto straordinario Tipo Ronaldo E si sono questo Perché abbiamo fatto il sondaggio sulla pagina Facebook di InterTV Oh, questi eh Questi qua che stai dicendo? Sì, quando ero Dovieri Vabbè, quello Quasi nessuno Quando ho lanciato il cappellino ad Aaron Winter Aaron Winter Sa che è arrivato Forse è quello più bello a It Quando abbiamo bruciato gli striscioni con la Laves Primo nello Sono volati quella sera lì Ma io prima nello bruciare le striscioni Buongiorno Buongiorno Fabio Ah, quello che sai? Ciao Fabio No, uno che ce la faccia peggio della mia Non parla Non parla Possiamo andare? A Costa L'Ambra giocare Senti quello di vacca? Che specie sfido? L'età mi c'è la liga Inquadra il campetto dove giochiamo oggi È inquadrato Ma lo vedi dal posteriore Sì, ci sono scapoli ammogliati Più pensionati che scapoli ammogliati Segui il flusso Allora che vuole? Cazzo non potrei passare qua in mezzo Se ti dicono qualcosa Dici guardi sono andati a fare una visita Ah, lo vado a pisciare Ai morti Ecco C'è un pesco non ti devo stare Eh, questo lì sì E questo è l'unica strada Cioè hanno venduto 4.000 vigliarci Inquadra là che non c'è Praticamente quelli lì sono i spogliatoi Ah sì Ah ma guarda che noi adesso scherziamo ma Sono i bagni Ma vedrai che sarà un bello stadietto È tutto nuovo Sarà come il sotterraneo di San Siro Poi dopo quando parcheggiamo Lo vedremo Eccoci qua Ma che bello con lo zainetto Sembri Bimbo Gigi Ha studiato No Pesca Il biglietto Il biglietto Ho già dimenticato io In macchina In macchina Ma dai Figa addirittura Ma è già lì il varco d'ingresso Mi sa di sì Sì è lì Sì ma io Sì ma varchiamo subito E certo Andiamo dentro a mangiare Vabbè dentro che so Figa c'è C'è di tutto Andiamo al medio Ora a mangiare Non lo so No ma all'interno E ci sarà Eh sì Te l'ho detto Però Prototipo del nostro stadio Eh devono essere così gli stadio Poi abbiamo la Virgin Acti Di messo Pesca Aprete la pesca poppa Ah io telefono Ecco Poi Basta Cosa bella che devi fare tre cretini Non so come se si sa Andiamo a mangiare Va che ce l'ho fame Va lì Ce l'hai fatta? Ce l'ho fatta Ammazza A mano A mano Viva la tecnologia Andiamo a mangiare Sì esatto Sì esatto Sì Buon appetito Però Squinzi Poteva mettergli Dei seggiolini Poteva mettere la birra Eh è vero Questa qua è birra finta Di pesca Analcolica Oh mi sto daventando Dorso nudo Prendiamo un po' di sole Per far vedere il tatuaggio Dillo Dillo Ma copri sta porta La famosa radiolina Beh C'è la tua ciappala Se ti va bene Ma è in amplifon Ma che è la struttura Ma non ho capito Cos'è un portachiavi Allora aspetta No non è un portachiavi La mette al collo La mette al collo E lei l'attacchia L'orecchio All'uregia 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 Cos'è funziona Guarda che è amplifon Aspetta ma che c'è anche il libretto di istruzioni C'è anche il libretto di istruzioni Il libretto di istruzioni Inquadra bene il rischio di scossa elettrica Ma è accesa? No no Non è ancora nuova Cioè non l'ho più rata Off Ragazzi Allora Cominciamo a tirarvi la linguetta magari Eccola qua Appendere la radio al collo Appenditi la radio al collo Mettere la radiolina nell'orecchio Usando il laccio in dotazione E questo le istruzioni Ecco vai Mettila dal collo E poi Fatto Sistemare l'auricolare dietro a un orecchio A uno eh A scelta In modo che il disco di spugna aderisca all'orecchio Aspetta un attimo Ho delle difficoltà motore Adesso ti voglio Girare la rotellina Gira la rotellina Off del volume Dove cazzo È lì È lì Allora la voce è accesa Però vedete se c'è il display qua Sì c'è il display Il schermo mostrerà i canali Che è uno e due Eh Per cambiare i canali Premere il pulsante Up o down Cosa ne ha detto? Premere il coso up Ehi ma Dove cazzo sono? Sono lì Eh vabbè ma te lo devi mettere in mano Per sentire l'inter Premere insieme i pulsanti Up e down per 3 secondi Uno Due Tre Sulla schermo apparirà Sì ma funziona sulla San Siro Qua siamo a reggiorno No io non si vedo Che cazzo vuoi che prendi? Quella funziona sulla San Siro 87,5 91,7 Figa indietro Faccio muoverla Guarda come si fa Ecco la radio funzionerà come una normale radio FM Su che sei che deve andare? 91? 1,7 Che cazzo u Ma se siamo in Emilia Romagna Qua guarda coglione Eh sì Sassuolo Si sente male Per tornare a sentire l'inter Premere di nuovo insieme a pedal Per 3 secondi Che sale 11 Poi per spegnere la radio Che è micidiale No però meglio forse Cioè prima dobbiamo accendermi Poi la scriveremo 91,7 No 91,7 Sì ma comunque Lì ci sarà schermo solo a San Siro No Ovunque Non è niente Vabbè comunque Questa è la minchiatina Che ci regalano noi appoggiati Vabbè comunque questa è la minchiatina Samir Sara cinesca Ciao Fabio L'unica cosa che riesce a fare è così Già la terza volta così E questo ci devi riportare a casa Ma solo così Beh dai Meno male che non ci vendono le birre almeno Ci va a casa solo quella Ci hanno venduto il sole Vabbè che ci sta stampando Non è quello con il piede Che piccolino Pronto Pronto Basta No 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 Mi sono bagnato con l'acqua No mi sono bagnato le braccia Tiramela addosso allora Mica Rinfresca Cosa c'è il braccialetto del mio Sì Si si guarda Poi è fatto in Vedi Che sta bene con l'oro Sì Fatto apposta così Tac Si è diventato verde Perché è andato al mare Non si vede più Ma perché io divento Cinghalese Quando mi ho provato un razzo Vabbè ma non mi hai messo solo la cremina Non mi hai messo la crema Non mi hai messo la crema Ma pochi giorni Eh Beh ma anche questo si è scoperto Che fa questo Guarda rispetto al blu come è diventato Eh ma no Ma perché è blu poi diventa così Dovresti farci Vabbè oh Cioè Il mio è blu Sì Proprio blu Guarda guarda anche qua ci sono i tratti che stanno intanto veri Sì no però è più blu tu Vero Ma tu hai la pelle diversa più chiara però Più chiara? Io? Tu sarei più come me Quasi Sembra di Cowboy se sembriamo Eh ma perché te stai sempre in giro all'aperto Anche pesca sta sempre in giro ma guarda tu Sì sì In giro in magazzino Mozzarella La mozzarella di seriate La chiotta è piena Oh Oh E' piena a Sassuolo ci giochiamo in casa noi la banda Vagai sempre presente quindi formazione Guarin Cambias, Taider, Jonathan e quella della Juve Alvarez, Palaccio, 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 Parin, mezzo al piano, quello che sta correndo di là o è la Nocchia? è la Nocchia è la Nocchia non è che ho questo pistolone qua di due metri non è che lo riconosco alla forza Riccardino è confermata la formazione contro la Juve io avrei messo i Cardi oggi dopo dopo ah subito oggi mi gioco il Jolly, primo gol in Serie A di Juan Jesus attenzione io mi gioco una ravanata mi hanno perso un dente dopo questa dichiarazione tipo gli hooligans quelli scozzesi non ha birra in base mozzarella si è coperto mozzarella ormai è in trance meglio perchè è bianca colpo di sole qui è che è piallata la piallata Ricchia quadragiuffri quadragiuffri dov'è giuffri? e non si vede via via no no non è gattone sei gattone? no no ci spazio